Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione della telegiornale delle Marche di TVRS. Un post questa mattina pubblicato dal presidente della regione Francesca Quaroli lascia intravedere la possibilità tra una settimana di tornare in zona gialla con tutto quello che ovviamente comporta. Occorre comunque monitorare l'andamento della pandemia che registra dati ancora oscillanti. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 490 su 2000 tamponi analizzati, quasi tutti nel percorso nuove diagnosi. 66 di questi soggetti sono sintomatici, abbastanza confortanti poi i dati sui ricoveri che restano più o meno stabili. Nelle terapie intensivi i pazienti passano da 90 a 91 ma c'è un calo sensibile sul totale complessivo di 21 unità. I degenti per covid negli ospedali marchigiani sono attualmente 655 con 34 dimissioni nell'ultima giornata. Ed è di nuovo attivo dalle 14 di oggi il numero verde regionale 800-936677 per assistenza telefonica relativamente al covid. Gli operatori saranno a disposizione per fornire ai cittadini marchigiani che vi si rivolgeranno tutte le informazioni e le risposte ai quesiti inerenti alla pandemia. Il numero verde sarà attivo tutti i giorni nel seguente orario, il mattino dalle 9 alle 13 ed il pomeriggio dalle 14 alle 18. E veniamo proprio alla notizia del giorno. Per un'altra settimana si resta in zona arancione ma ci sono buone possibilità come detto di tornare finalmente nella tanto desiderata area gialla. Sentiamo. Mi ha chiamato il ministro Speranza, ha scritto stamane il presidente della regione Francesco Acquaroli sul suo profilo Facebook per confermarmi l'andamento molto positivo dell'indice RT anche nella scorsa settimana. Se questi dati verranno confermati e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal giorno 4 dicembre venerdì la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla. Il ministro mi ha anche preannunciato che l'ordinanza in scadenza oggi sarà prorogata fino al 3 dicembre poiché i 14 giorni per cambiare fascia non vanno considerati dal giorno in cui l'ordinanza è stata emessa ma dal giorno in cui si registra il primo risultato positivo. Cerchiamo di restare vigili e attenti. Ringrazio i cittadini marchigiani per l'atteggiamento costruttivo e collaborativo e per i sacrifici che stanno compiendo. Conto nelle prossime ore di potervi dare, conclude il governatore, un altro importante aggiornamento. Dobbiamo dire però che resta drammaticamente alto il numero dei morti. Sono stati 827 in Italia con 28.352 nuovi positivi. Davvero molto attesi sono arrivati alla casa di riposo Lazzarelli di San Severino devastata dai casi di covid con 61 casi di positività tra i degenti e 15 tra il personale, i medici e gli infermieri delle forze armate. Saranno impegnati, ha detto il sindaco Rosa Piermattei, fianco a fianco con gli addetti ai lavori della struttura dell'Asur e dell'Usca. Dovremmo aver superato la fase acuta tanto che i primi pazienti si stanno negativizzando ma la pandemia continua ad essere molto forte ed aggressiva su persone come i nostri anziani ospiti già sofferenti per una serie di patologie pregresse. Che bel gesto da parte del dottor Valentini mettere a disposizione gratuitamente la sua professionalità in un momento così difficile di emergenza. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sul passo avanti fatto dal coordinatore del laboratorio analisi interno a Marche Nord, dottor Massimo Valentini, in pensione dallo scorso 15 ottobre che ha deciso di rendersi disponibile a rientrare gratuitamente in servizio per aiutare la squadra di biologi. E siamo già alla pagina della cronaca. All'aeroporto di Linata a Milano sono stati intercettati vari tipi di stupefacente nascosti nella corrispondenza postale proveniente principalmente dall'Olanda. 174 di queste missive avevano come destinatari persone residenti nelle Marche. In tutto sono stati sequestrati 50 kg di droga occultati in biglietti d'auguri racchiusi tra pagine di libri o in confezioni di cerotti. Ben 10.000 francobolli contenevano LSD, il ben noto acido lisergico, una droga molto potente. Maxi operazione nel Fermano all'alba da parte dei carabinieri con 6 arresti per spaccio e non solo. Vediamo il servizio. Duro colpo allo spaccio di droga nel Fermano. I carabinieri hanno stamane data esecuzione all'operazione Das Depts, individuando diversi pusher di cocaina e marijuana, piazzata poi in molteplici località del territorio. I militari nei comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Pedaso, Fermo e Monte Giorgio hanno fatto irruzione nelle abitazioni di 6 soggetti, 3 italiani, 2 macedoni ed un albanese, di età compresa tra 35 e 54 anni, nulla facenti e pregiudicati, provvedendo alla loro cattura poiché ritenuti responsabili di spaccio continuato di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Con l'ausilio di alcune unità cinofile e supportati dalla copertura aerea di un velivolo, circa 50 carabinieri hanno raggiunto i diversi obiettivi che sono stati meticolosamente perquisiti, comprese le relative pertinenze e veicoli nella disponibilità degli interessati. L'operazione che aveva portato nelle varie fasi già all'arresto in flagranza di due persone alla denuncia in stato di libertà di ulteriori tre soggetti italiani, tra cui una donna, tutti residenti in ambito provinciale, ha permesso nel complesso di recuperare alcune centinaia di grammi tra coca, hashish e marijuana, oltre a telefoni cellulari, schede telefoniche, sostanze da taglio, strumenti e materiale per il confezionamento degli stupefacenti, ed oltre 16.000 euro occultati in un'abitazione ritenuto provento di attività illecita. Riscontrate 320 cessioni di droga, identificati e segnalate alla prefettura 76 assuntori a dimostrazione della grande diffusione di questo fenomeno trasversale tra le varie generazioni. E proseguiamo comunque con le notizie di cronaca, perché i carabinieri di Osimo hanno arrestato per rapina aggravata, furto in abitazione, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterato di Grimaldelli, resistenza pubblico ufficiale e lesione personale, quattro cittadini di origine albanese, di cui due irregolari sul territorio nazionale, gli stessi avevano stabilito la loro base logistica in un'abitazione di Ancona, da dove partivano per raggiungere le località da depredare, svuotando abitazioni anche ai piani più alti degli stabili a bordo di autovetture a noleggio al fine di eludere le investigazioni. In particolare, con la cosiddetta tecnica del foro, avevano messo a segno numerosi colpi ad Agugliano, Polverige e Castelfidardo, dopo un lungo inseguimento terminato in via 25 aprile nel capologo d'Orico, è stata recuperata una refurtiva di 3.000 euro e monili in oro rubati poco prima a Polverigi. Gli agenti della Guardia di Finanza di Civitanova hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari ad un trentenne del posto. Alcune settimane fa era stato fermato e per effetto di una perquisizione domiciliare su segnalazione del cane antidroga ed irra vennero sequestrati 45 grammi di marijuana. I contestuali accertamente hanno evidenziato la presenza di altre 5 precedenti denunce di analogo tenore, di cui due arresti in fragranza ed altri ritrovamenti di droga. Cambiamo argomento ultimato all'adeguamento al volo notturno dell'elisuperficie di Ponte La Trave lungo la strada nel territorio di Camerino. L'intervento è stato reso possibile grazie agli SMS solidali ProSisma, un altro tassello per valorizzare i servizi sanitari nell'area Camerte, raggiunto dall'Unione Montana, con un accordo siglato nei giorni scorsi con gli ospedali riuniti di Ancona. Si va a colmare un'esigenza particolarmente sentita nelle zone montane, dove anche per condizioni meteo avverse o condizioni di emergenza, come nel caso del terremoto, è necessario garantire un intervento sanitario rapido ed efficace, ha detto il Presidente dell'Unione Montana, Alessandro Gentilucci. Domani alle 15.30 prende il via un'edizione del tutto particolare dello storico Tipicità Festival, ma sempre nella cornice del Fermo Forum, con la presenza tra gli altri del Governatore Francesco Acquaroli, del Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, della Presidente di Ancimarche Valeria Mancinelli, oltre ai tre rettori delle Università di Ancona, Macerata e Camerino. Trenta gli eventi in programma fino all'8 dicembre ed oltre. Sentiamo l'intervista con il direttore Angelo Serri. Tipicità, ne abbiamo un po' parlato in questi giorni, non molla ma rilancia, perché parte domani è un'edizione online, quasi totalmente in digitale, diciamo anche quasi non a caso, perché comunque resta una base che è quella storica del Fermo Forum. Trenta e venti di cui parliamo con il direttore Angelo Serri a partire da domani. Buonasera intanto Angelo. Buonasera Andrea. Domani alle 15.30 ci sarà, Angelo, l'inaugurazione con la presenza di autorità, ma anche dei vostri partner. Sì, diciamo che, come dicevi tu, questa edizione particolare che noi abbiamo chiamato Tipicità Special Edition parte perché siamo stati sollecitati in realtà da diverse parti, in primo luogo dalle aziende espositrici tradizionali di tipicità, ma dai nostri partner, come hai detto tu, ed anche dalle istituzioni. in pratica è passato questo messaggio, tipicità non può sparire dalla scena di questo pur anomalo 2020. in realtà a un certo punto era quasi sembrato che ne potessimo recuperare un'edizione, seppure ridimensionata, ridotta, in autunno, ma poi, come abbiamo visto, il precipitare degli eventi con questa seconda ondata ha reso impossibile anche questa ipotesi. e allora siamo partiti con un'edizione, con l'attuale edizione, che oltretutto ci consente di mettere in campo tutta l'esperienza maturata nel digitale. Tengo a sottolineare questo perché non solo ho un'esperienza maturata in questo periodo di emergenza, ma anche prima, in quanto, come tu ben sai, anche negli anni scorsi tipicità si era dotata di una piattaforma digitale, anche con il Grand Tour, ma con tutte le nostre iniziative, ed aveva iniziato ad esplorare questa strada innovativa, che poi si è rivelata vingente nel momento del bisogno, è indispensabile nell'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tutt'ora. Diciamo quindi che il fil rouge resta ben saldo, in attesa di tornare all'auspicata normalità, e per voi la normalità significa anche la massiccia presenza di pubblico, che è un elemento imprescindibile nel format tradizionale di tipicità? Sicuramente, però questo, come tu hai visto e ci hai seguito tutta l'estate, ci ha permesso di realizzare delle iniziative quest'estate, abbiamo fatto con il Grand Tour ben 25, pensavamo di farne 6 o 7 giusto per dare un segnale, invece c'è stata una grossa esigenza. Ritornando alla tua domanda, domani grande apertura al Fermo Forum, abbiamo voluto lasciare il Fermo Forum, dare anche un messaggio fisico forte, fisicamente, un luogo, perché in questo momento l'attenzione ai luoghi fisici per noi è più importante che mai, è fondamentale. quindi abbiamo allestito un set televisivo, penso che voi potete anche mandare l'immagine, penso che l'avete, e un set televisivo al tutto molto scenografico, molto spettacolare, dove saranno presenti nella trentina di eventi in 11 giorni che tu hai accennato, dove saranno presenti i protagonisti, ma poi avremo dietro il mondo, perché non dimentichiamo che, anche se dobbiamo fare meno del pubblico in presenza, però ci si aprono scenari nuovi di cui dobbiamo fare tesoro e che nella next normal, come si dice oggi, potremo affiancare alla fisicità, avremo questo patrimonio che ci consentirà di interloquire. Ti chiedo un'ultima cosa, Angelo, il visitatore può comunque entrare, tra virgolette, veramente nei padiglioni del Fermo Forum, per rendersi conto virtualmente, ma personalmente, di questa tipicità online? Sicuramente, attraverso il nostro sito www.tipicità.it, oppure nella nostra pagina Facebook, Facebook, chiocciola, tipicità festival, e può entrare nei vari eventi che trova sul sito, il palinzesto lo trova sul sito, e soprattutto il visitatore potrà, e questo è molto importante, perché non parliamo solo, diciamo così, di chiacchiere, tra virgolette, ma tipicità in aurora un marketplace, per cui abbiamo una serie di espositori virtuali, ognuno con il proprio stand, anche qui tra virgolette, o la propria vetrina, si potrà entrare, vedere, interagire e anche acquistare attraverso i produttori, non attraverso tipicità. Questo, cosa molto importante, continuerà permanentemente. finita l'edizione di tipicità l'8 dicembre, il marketplace resterà e anzi, diciamo, si amplierà con le nostre produzioni permanentemente, una tipicità permanente. Allora, si conclude l'8 dicembre, tu l'hai detto, senza mettere limiti alla provvidenza, diciamo così. Grazie. E dall'8 dicembre, ti aggiungo questa cosa, siccome il tempo non basta, già siamo slittati con due eventi all'undici, uno e nove, uno all'undici, perché ce l'hanno richiesto e quindi ci saranno delle appendici. Col marketplace sempre a disposizione, ovviamente. Sempre, sempre. Grazie ad Angelo Serri. Grazie a te e un saluto a tutti i telespettatori di TVRS. E veniamo alla pagina sportiva di oggi, con gli appuntamenti sempre condizionati dal Covid del fine settimana, in campo regolarmente Lascoli, che domani alle 14 farà visita al Venezia del grande ex Paolo Zanetti. Mister Bertotto ha ancora sulla panchina bianconera diramato la lista dei convocati per questa delicatissima sfida. Mancheranno gli squalificati Corbo e Buckel e gli infortunati Donis e Sarsi Puttini. Inutile dire che la feducia confermata al tecnico della società resterà intatta soltanto con i risultati, visto che con 5 punti in 7 partite la classifica non lascia molto spazio all'ottimismo. Ricordiamo che l'assemblea di Serie B, riunita ieri in videoconferenza, ha deliberato che le retrocessioni non saranno più 4 ma 3, 2 dirette e la terza con la disputa dei play-out ed il prossimo campionato risulterà quindi essere a 21 squadre. Il VAR, invece, partirà solo con i play-off ed i play-out. Scendiamo in Serie C che offre un programma molto interessante con in particolare il derby Fermana-Matelica, anche se specie in casa giallo-blu non mancano i problemi. Vediamo. L'incubo Covid sulla Fermana. Il virus ha fatto capolino anche nello spogliatoio dei Canarini dove è stata accertata la positività, dopo quella di Massolo, anche del difensore Marco Manetta, ovviamente in isolamento domiciliare ed in continuo contatto con lo staff sanitario per seguire l'evolversi del quadro clinico. Mister Antonioli, dal canto suo, spera almeno di recuperare Urbinati e Rossoni contro un Matelica, fischio d'inizio a Recchione alle 17.30, che seppur scottato dalla rimonta subita nel finale con il Cesena, ha uno stato d'animo ben diverso con 9 punti in più in classifica, ma ha anche la necessità di registrare il suo reparto difensivo che è tra i peggiori dell'intero girone con 21 reti subite sinora. Partita davvero da non fallire per il Fano, che torna al Mancini domenica alle 15 per ricevere la Virtus Verona, con pagine tradizionalmente molto ostica, mix tra giovani ed esperti e che viene da un momento positivo, mentre i Granata, lo rammentiamo, sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria. Alla stessa ora la San Benedettese attende al riviere Il Legnago, falcidiato anch'esso dal Covid e che non scende in campo da 18 giorni. Sulla carta insomma un'occasione da sfruttare, per una gradatoria ancora non consona alle ambizioni della nuova società rosso-blu. Infine la Vispesaro, che rinfrancata dalla rocambolesca affermazione ottenuta con il Carpi nelle immagini, sale a Padova forse con la consapevolezza di non avere molto da perdere, visto che il pronostico è tutto dalla parte dei biancoscudati, tra l'altro alla ricerca del riscatto dopo il brutto scivolone di Salò. E domenica alle 14.30 si gioca il recupero del campionato di Serie D tra Recanatese e Rieti. Giallorossi che non scendono in campo da 20 giorni, Laziali invece fermi addirittura dal 18 ottobre con tutte le incognite del caso. Giampaolo è alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Scogna, Miglio e Raparo. Nella pallacanestro ferma la Serie A per gli impegni delle nazionali. Vi ricordo l'appuntamento con Big Basket sabato alle 13 con ospite Walter Magnifico, dirigente della Carpegna, Prosciutto, Pesaro. Parte a singhiozzo la Serie B, il derby Monte Granaro Fabriano è stato posticipato a martedì 1 dicembre, mentre il programma prevede Cividale Senigallia, Ancona, Giulia Nova, Rosseto, Arora Iesi e Teramo Civitanova. Vediamo ora le previsioni meteo per sabato 28 novembre. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che sarà caratterizzata dall'arrivo di questa zona di bassa pressione sul Mediterraneo centrale e coinvolgerà soprattutto il centro-sud dell'Italia. Con piogge però localmente anche intense in alcune zone. Cominciamo a vedere intanto la nuvolosità. A te, sul nostro paese, ovviamente sarà una giornata grigia soprattutto al centro-sud, ma in parte anche nelle regioni settentrionali, anche se sulla fascia alpina e prealpina non mancheranno ampie schierite. Le precipitazioni diciamo sono anche intense in alcune zone dove, soprattutto in Sardegna inizialmente e poi anche sulla Sicilia e a fine giornata queste piogge raggiungono le regioni tirreniche, soprattutto quelle del Medio e Basso Tirreno. Quindi in definitiva ci attende un sabato di mal tempo in Sardegna e Sicilia, con temporali localmente anche forti, nuvole in gran parte del centro-sud, qualche goccia di pioggia sulle riviere Liguri, ma questo soprattutto al mattino poi in miglioramento e arrivano invece delle piogge sul Medio e Basso Tirreno e a fine giornata anche in Emilia-Romagna e sul versante ionico. Nell'esu Italia il tempo bene o male tiene, invece già vi preannuncio domenica forte mal tempo al sud. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. E siamo alla palla a volo domani, torna in campo la Luba alle 18 per ricevere Verona dopo una settimana di stop forzato. Ricordiamo che in classifica, parità di partite disputate, Perugia sopra avanzati, i bianco-rossi con 24 punti, uno in più dei ragazzi di De Giorgio. Ricordiamo anche che gli scaligeri hanno tagliato Buoyer. In A2 femminile scontro al vertice, domenica alle 17 per la Megabox Vallefoglia che riceve a Montecchio la capolista Cutrofiano, che attualmente ha due lunghezze di vantaggio sulle Pesaresi, ma con un match da recuperare. Ai box invece la CBF Balducci. Infine la Serie A3 con la Med Store che sarà di scena a Motta di Livenza. E della compagine maceratese parleremo diffusamente nel volley di Spiker di stasera alle 21.30 sul canale 111 e dalle 22.45 sul canale 11 con il coach Adriano Dipinto e lo schiacciatore Jan-Willem Snippe. Vigilar Fano in trasferta a Trento e Videx domenica alle 16 ad Aversa. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon fine settimana.